Contro le grandi non c'è nessunissimo problema, le state battezzando tutte? Ma io non posso dire di essere sicura al 100%, però so che quando noi tiriamo fuori, anche durante allenamento, si vede nella settimana, quello che sappiamo fare e soprattutto ci aiutiamo tra di noi, in quello che riguarda soprattutto anche le coperture in attacco, in quello che riguarda la difesa, le stesse alzate, le stesse cose banali, quando poi ci vengono e lo facciamo con naturalezza, siamo tranquille tutte, penso. Una partita diciamo ordinata, dai. Sì, ecco, quando c'è ordine, perché è vero, tante volte ci vuole ordine, magari la pazienza no, perché poi la pazienza dopo un po' stanca, però ci vuole ordine, ecco, è divertimento, questo lo dirò sempre.